Io mi chiamo Stefano e sono un membro del ruolo di Ocultato, che adesso vi presenterò. Perché questo nome? Gio come giovani, inviato come adolescenti, che cantano la pura del Signore. Il nostro cuore è nato ormai sia anni fa, durante la vacanza estiva. Abbiamo capito che la pressione che ci unisce molti ragazzi è fare musica insieme. E da lì abbiamo iniziato ad animare le messe in parrocchia e anche qualche matrimonio. Grazie però ad un'amica del PIN abbiamo cantato il nostro primo evento missionario. E da lì abbiamo continuato, collaborando anche con altri cuori. E lì già è voluto Gimina, e infatti insieme a loro abbiamo cantato durante la velia missionaria del PIN. Durante questi eventi abbiamo capito che essere parte di una comunità, di una chiesa, va al di là delle quattro ore del nostro dottorio. Infatti, partecipando a questo evento, vogliamo far capire ai nostri alatori giovani che l'essere chiesa è in primis fare missioni qui e all'estero, portando e cantando la pura del Signore a tutti. Buona scuola a tutti. Grazie. 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 venire ad abitarla come fosse la nostra casa. Tu mi manderò, ancora che l'aveva con il giusto di me, che mi percorrere a questo motivo. E mi pescò, e non abbandonaci questo, Grazie a tutti. 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 , , , a tutti. 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 , , , a tutti. , a tutti. , , , , ,